Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è giovedì 12 novembre 2021, iniziamo la giornata insieme dando un'occhiata ai giornali, questa mattina non abbiamo in edicola il Corriere Adriatico che non è stato stampato per un problema tecnico, quindi ci limiteremo a dare un'occhiata al resto del Carlino, prima però passiamo come sempre attraverso il santo del giorno e il meteo. Oggi è San Josefate Kun Xevix, un santo di cui vi so dire poco, perché oggi è anche la festa di un altro santo più noto come San Diego d'Alcalá, un santo spagnolo molto noto anche in America, tanto che lui è stata così dedicata alla città di San Diego in California. Comunque oggi festeggiamo San Josefate, tanti auguri anche a chi si chiama con questo nome, forse poche persone. Passiamo ora al meteo. Vediamo che la situazione presso a poco è un po' come quella di ieri, c'è una spiccata e instabilità con nubi e piogge sparse in tutto il centro Italia e anche quindi nelle Marche. Vediamo la regione cosparsa di nuvolette, nelle Marche non dovrebbe piovere, però fenomeni più instabili sono previsti nell'Umbria e nella Toscana. Ed ora diamo subito un'occhiata alla prima pagina del resto del Carlino, dove vengono sintetizzate le notizie che vengono più ampliate all'interno. L'articolo di apertura è dedicato al problema delle spiagge, al problema del rinnovo delle concessioni. Spiaggia, canoni e prezzi stracciati. Vedremo poi come nell'interno il resto del Carlino pubblica tutti i canoni che i concessionari di spiaggia pagano allo Stato e al Comune per quanto riguarda la sfera che va da Gavice a Fosso Signore. Quanto pagano i gestori degli stabilimenti balneari? Ecco la mappa, bastano anche 2.500 euro, poi vedremo se è poco, se non è poco, eccetera. Insomma ci sono diverse valutazioni a questo proposito. A Fano invece spicca il report della Caritas sulla povertà. Ieri è stato presentato anche dal Vescovo Armando Trasarti. Il messaggio del Vescovo, i poveri non sono solo della Chiesa e lancia un appello a tutte le altre istituzioni. La fotonotizia è dedicata invece ai due ragazzi che ieri sono scomparsi. Sono due liceali. Hanno abbandonato scuola e casa. Emanuele e Nicolás il giallo dei liceali. Sedicenni scomparsi da mercoledì. L'ultimo messaggio. Non ci vedremo per un po'. Insomma hanno detto che se ne andavano da casa. Insomma non dovrebbe essere accaduto nessun incidente. Però la loro scomparsa desta tanta ansia e tanta preoccupazione ai loro genitori. Per quanto riguarda lo sport vediamo festa per gli azzurrini. Nonostante che hanno perso ieri la partita con i ciechi. E per quanto riguarda la VL che sta così andando verso Napoli, certi coach fanno svoltare una stagione. Sacripanti difende il lavoro degli allenatori. Banchi sta cambiando faccia a Pesaro. E ancora altre notizie richiamate in prima pagina dal resto del Carlino. Effetto Mancini sul turismo. Grandi numeri nel 2021. Il presidente della regione Acquaroli ieri ha parlato delle presenze e degli arrivi turistici nella nostra regione dove si sono evidenziati dei risultati superiori ad ogni iniziativa. Pensate superiori anche al 2019. Non solo al 2020 quando il turismo è stato pressoché nullo ma addirittura il 2019 quando il trend era sempre in salita. E poi fondi europei. Crotone fa ricorso contro Pesaro per quanto riguarda i fondi Pinqua che dovrebbero servire a rivalorizzare gli orti di Pesaro mentre il risico degli hotel a fare fatto per il patron della Vis. Il Lido è suo. Apriamo subito il giornale e vediamo come le prime pagine sono dedicate alle concessioni balneari. Spiagge ma quanto pagano di canone? C'è chi se la cava con 2500 euro l'anno. Ed ecco la mappa degli stabilimenti balneari cittadini. Tariffe anche a 500 euro ma solo per chi fa attività ricreativa senza scopo di lutro. Dalla Vallugola a Fossoseore a circa 20 chilometri di costa gli oltre 80 concessioni versano ogni anno un totale di poco superiore ai 380 mila euro. Una cifra che include sia il demanio marittimo che quello comunale. Diamo un'occhiata anche a questa lunga tabella pubblicata al lato della pagina dove vediamo quanto pagano le concessioni. Chi paga più di tutti è il ristorante Moletto che paga 23.960 euro e 98 centesimi seguiti dallo chalet Amare il Pamar con 13.364 euro. E poi abbiamo importi inferiori come Itacabic 9.446,21 oppure bagni Agata 8.245,08. seguono i bagni Lallo 7.843 e i bagni Enrico 7.307 oppure il ristorante Bar della Pia 7.759,36 e invece chi paga di meno vediamo che è il circolo velico Ardizio che paga 1000 euro all'anno oppure i vigi del fuoco bici con la stessa cifra. Insomma sono cifre abbastanza ridotte rispetto poi agli incassi che fanno i concessionari di spiaggia. Comunque la spada di Damocle che mai rischia di cadere sulla testa dei concessionari desta ancora molte molte polemiche. Addio spiaggia, prendo una ruspa e abbatto tutto. Questa è stata la reazione di Alessandra Varonciani che dice qualsiasi verdetto ci sarà io ho prenotato le ruspe. A chi subentrerà lascio solo la sabbia. Quello che ho costruito con i miei risparmi lo rado al suolo. Beh, una reazione piuttosto inconsulta ma comprensibile per quanto riguarda gli investimenti che tutti i concessionari di spiaggia hanno fatto nella nostra costa per valorizzare il mare e quindi attrarre turisti. Noi privilegiati ma che c'è troppo astio, ha dichiarato Stefano Tombari dei bagni Gilberto, c'è troppo asto, un ombrellone costa in media 600 euro per coprire 4.000 euro di concessione, ne bastano 6. Questo è un po' il conquibus che scaturisce dalle dichiarazioni di Tombari. Giriamo pagina e parliamo della scomparsa dei due ragazzi, dei due liceali. Emanuele e Nicolas, liceali scomparsi. Il messaggio non ci sentiremo per un po'. Hanno 16 anni, sono compagni di classe dello liceo scientifico Marconi. Mercoledì mattina sono usciti di casa ma non sono andati a scuola. Qualcuno dice di averli visti pranzare al Burger King. Le famiglie hanno fatto scattare le ricerche e ci sono veramente ore di ansia in città. I militari hanno passato al setaccio tutto il centro storico, anche la periferia, la scuola, i parchi. I due colli che abbracciano Pesaro e si tuffano nel mare. Hanno ascoltato il preside, i professori, gli amici. Diffuso foto a tutti i canali istituzionali. Queste le foto dei due ragazzi, li vedete qui. Ma di Emanuele e Nicolas fino a ieri sera non si sapeva ancora nulla. Sono bravi ragazzi, non sono ragazzi così disadattati. Vanno bene a scuola, passano la loro giornata tra studio, amici e passioni. Quella per il calcio di Nicolas che milita nella villa San Martino, mentre c'è la musica oltre ai libri. Ha portato con sé il piccolo prince per quanto riguarda Emanuele. E qui c'è l'angoscia dei genitori e degli amici. Tornate è l'appello. Vi aspettiamo a braccia aperte. Le parole di Guerrino Pucci, padre di Emanuele, e poi la cugina Gaia. Noi siamo qui, io spero solo che tu stia bene. Riccardo Rossini, preside del liceo scientifico, dice sono entrambi bravissimi e sono convinto che la loro sia solo una ragazzata. Speriamo che sia così e che questa situazione si concluda al più presto. E parliamo ora di sanità. Vediamo sulla pagina del resto del Carlino. Un po' un resoconto dell'andamento delle vaccinazioni e degli effetti del Covid. Vaccini Gradara e Gabice restano giù. Contagi, l'incidenza arriva a quota 88. Ed ecco la mappa delle dosi in provincia. Ieri 230 nuovi positivi e una nuova vittima, un ottantenne della nostra provincia. Vediamo qualche dato. Fano 79% dei vaccinati sulla popolazione totale, che è circa di 60.000 abitanti. Le vaccinazioni per gli over sessantenni sono al 91,6%. Per quanto riguarda Pesaro la vaccinazione totale è del 77,7%, degli ultrasessantenni del 90,9%. A Vallefoglia siamo al 78,1% per le totali e il 92,4% per gli anziani. A Urbino 81,7% per i totali, 93,7% per gli ultrasessantenni. Poi abbiamo ancora dati che riguardano Mondolfo, 80,2% e 90,8%. Invece i dati più bassi sono quelli di Gabice Mare, dove rispetto al totale dei residenti della popolazione si sono vaccinati il 66%, mentre gli over 60% ammontano all'83,6%. C'è anche una polemica. A questo proposito è il Partito Democratico contro Saltamartini sui nuovi posti di terapia intensiva. Continua ad alterare i numeri, affermano quelli del PD. È il nuovo ospedale di Muraglia progettato all'interno della regione, salvo sorprese, quindi non ci saranno incarichi esterni per il progetto. La coppia Goffi-Bartoli potrebbe essere incaricata per il preliminare, poi possibile un appalto integrato con l'esecutivo. Il dirigente Andrea Bartoli, che avrà la responsabilità dell'indilizia sanitaria, sarà il primo responsabile. Al suo fianco ci sarà il principale conoscitore dell'area di Muraglia, ovvero quel Nardo Goffi appena nominato tra i sei super dirigenti con addirittura un aumento di competenze nella protezione civile. Quindi il presidente Francesco Acquaroli va diretto verso il suo progetto. Ormai il sito di Muraglia è conclamato, vi è stato scartato quello di case bruciate, anche se le polemiche ancora non sono sopite. Guardia armata H24 al pronto soccorso, c'è anche l'ok del profetto Ricciardi. Il prefetto Tommaso Ricciardi ieri ha convocato e presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per l'esame delle problematiche relative alle aggressioni ai danni del personale sanitario, in modo particolare per quelli del pronto soccorso. Ebbene si è deciso di istituire una guardia armata, una guardia armata che dovrebbe vigilare sui reparti più a rischio H24 presso entrambe le strutture di Fano e di Pesaro. Quindi una sicurezza in più per il personale del pronto soccorso. Bosco dà un calcio al degrado, preso il Lido. Ora è ufficiale. Il presidente della Vis Pesaro ha comprato l'hotel di Viale Trieste, lo vedete qui nella fotografia. Ci vorranno almeno due anni per i lavori, per rimetterlo in sesto, a vendere la struttura. La famiglia Matteucci era chiusa ormai da una decina di anni. Quindi si riapre questa nuova struttura, questa struttura anzi ricettiva. C'era una volta la Monte Catini, un nome che chi ha qualche anno in più lo ricorda bene. Foto e documenti della fabbrica che ha fatto la storia della città di Pesaro. Domani l'inaugurazione della mostra alle ore 17 al piano rialzato della Galleria dei Fonditori. La Monte Catini, che era nata a Pesaro come succursale della sede principale milanese nel 1917, ha costituito una delle più grandi realtà industriali della provincia nel campo della metalmeccanica e dei lavori della fonderia con prodotti che poi sono stati esportati in tutto il mondo. E qui vedete una foto d'epoca. C'è un ricorso al Tar sui Pinqua. Crotone mette nel mirino Pesaro. Guerra tra comuni, esclusione ingiusta e non motivata, hanno dichiarato i dirigenti di Crotone, chiamata in causa dai calabresi anche Livorno. Che cosa è accaduto? È accaduto che nella classifica che il Ministero ha redatto per la concessione dei contributi sui progetti Pinqua, che sono i progetti di qualificazione dei quartieri, delle strutture e anche periferiche delle città, Crotone è stata esclusa perché non ha presentato alcuni elaborati nell'ambito delle scadenze che erano state fissate. Ebbene, però, dice Crotone, noi siamo stati esclusi, ma altri comuni che hanno fatto la stessa cosa sono stati invece accettati, tra cui anche Pesaro. E quindi ora, nell'atto del ricorso al Tar, forse si mette in discussione anche il ruolo di Pesaro all'interno della classifica. Pesaro aveva presentato un progetto per la riqualificazione degli Orti Giulie e dell'osservatorio Valerio. Buocciatura perché i progetti sono stati presentati in ritardo, ma a Pesaro è successo la stessa cosa e vedremo ora come reagirà il sindaco Ricci. Svuota il conto corrente dell'anziano, va a processo. Era stata nominata amministratrice di sostegno dell'uomo, ora è finita sotto accusa per peculato. Insomma, si tratta di una peruviana di 44 anni che si è appropriata delle risorse di un novantenne pesarese, ospite della struttura del Beato Sante di Monbaroccio. Volontariato sociale, voci su voci, ma non c'è più. L'annuncio di Edda Bassi, presidente di una realtà attenta alla disabilità, tra le ragioni la riforma del terzo settore e la difficoltà a trovare volontari. Insomma, si parla tanto, ma poi di fatti ce ne sono pochi. E veniamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino. Ieri c'è stato un incontro dell'assessore regionale Francesco Baldelli con i dirigenti e gli operatori della Coffcommercio. Si è parlato di infrastrutture, Baldelli è assessore alle infrastrutture della regione, in modo particolare della viabilità e della Fano Grosseto. La regione dice no alla proposta del Ministero che intende completare la Fano Grosseto con due corsie. La regione ne vuole quattro, ne vuole quattro perché solo con quattro c'è una continuità di prolungamento per quanto è stato costruito in Umbria e in Toscana. E poi il Ministero dice che ne bastano due perché insomma sul tratto marchigiano ci sono solo 8 mila veicoli al giorno e quindi sarebbero pochi per avere quattro corsie. In realtà se fai una strada a quattro corsie i veicoli saranno sempre di più. Per cui insomma la regione insiste per le quattro. E chiede inoltre l'istituzione di un commissario politico oltre ad una cabina di regia. Baldelli ha fatto anche un discorso più ampio, non ha parlato solo della Fano Grosseto, ha parlato anche di tutta la viabilità marchigiana ponendo in evidenza sia i risultati ottenuti dalla salaria che delle due strade, la E76 e la E77 del quadrilatero, che dovrebbero essere poi completate con le pedemontane in senso della direzione nord-sud e sud-nord per collegare anche i centri dell'entroterra. Insomma una viabilità coordinata e integrata per far sì che il traffico venga distribuito equamente, soprattutto poi con il completamento della Fano Grosseto in tutto il territorio regionale. Violenza sessuale assolto un imprenditore era finito a giudizio per i massaggi all'ex fidanzata del figlio. Il PM aveva chiesto 4 anni e 6 mesi. Erano massaggi al chakra. Per quanto riguarda l'ex fidanzata del figlio, mi sembra che avesse circa 30 anni. La giovane soffriva di alcuni disturbi fisici e psichici e lui si sarebbe offerto di darle sollievo e alleggerire alcuni suoi blocchi attraverso il massaggio dei chakra. Ma insomma erano dei massaggi un po' particolari, diciamo così. Più di 3.000 hanno teso le mani alla Caritas. Ieri la Caritas ha reso noto il report sulla povertà. Il dato relativo al 2020 disegna la mappa del bisogno. Sono più gli uomini delle donne in aumento le difficoltà dei giovani. Più di 3.000 persone hanno bussato alla porta della Caritas di Ocesana nel 2020 lamentando problemi economici. 1.490 esattamente, occupazionali 1.228, abitativi 506, di salute 401 e persino di istruzione 104. Il 46% di loro erano poveri e nuovi poveri, italiani soprattutto. Ieri il nuovo bisogno è stato esposto da un direttivo della Caritas cambiato. Vediamo che è cambiato il direttore Ettore Fusaro che ora si trova in Albania e dall'Albania un po' ha delineato qual è lo schema nuovo della Caritas, quali sono gli obiettivi, quali sono i mezzi a disposizione. Ma soprattutto ne ha parlato il vescovo Armando Trasarti e il quale ha detto che i poveri non sono solo della Chiesa. Il vescovo ha scosso le istituzioni e le amministrazioni, anche il Comune. Quando fanno progetti, ha detto, parlino di asfaltature luce ma anche dei bisognosi. Se deleghiamo i compiti civili abbiamo fatto del male. Insomma un impegno deve essere un impegno solidale ma deve essere anche un impegno compartecipato perché da soli non si arriva da nessuna parte. A bellocchi avvistati ancora i lupi. È una foto posta sui social. Questa lo vediamo un bel e pericoloso esemplare che è stato fotografato nei pressi della superstrada. Lupi avvistati a bellocchi a certificare gli incontri ravvicinati foto e video postate sui social e accompagnati da raccomandazioni. Insomma occorre stare attenti. Pergola dopo lo stop torna a ciocco a visciola. Le date scelte per la tradizionale Kermes che taglia il nastro della undicesima edizione sono quelle del 4, 5 e 8 dicembre. E poi buoni spesa, colli al metauro come quando presentare la domanda. Sono aperti termini fino al 23 novembre. I buoni andranno da 250 a 650 euro a seconda del numero dei componenti della famiglia. Ad Urbino sono stati smascherati gli imprenditori truffatori della moda. Urbino e Prato uniti da un filo invisibile. I due aprivano e chiudevano società per evadere l'operazione delle fiamme gialle e della procura. Urbino e Prato passando per un immobile partecipazioni aziendali ora sequestrati per evasione fiscale per attività legate al settore dell'abbigliamento. Una bella operazione questa delle fiamme gialle per un valore di circa 82 mila euro tra disponibilità bancarie è appunto un immobile e quote societarie. Gianfranco Fredigucci presiede la ciclo Ducale, l'associazione che organizza la popolarissima straducale a nuovi dirigenti e lavora con grande passione. Siamo ormai in conclusione. Vediamo ancora polemiche per quanto riguarda il turismo. Parole, parole, parole. Il titolo ricalca un po' il bla 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 della Greta, Partito Democratico e Viva Urbino attaccano con fermezza la giunta comunale. Non hanno fatto niente per Clemente XI. Vedete qui la foto di Clemente XI per cui oggi si tiene un'altra giornata di studi. La giornata è cominciata ieri, è la prima del convegno Roma-Urbino 1703, ovvero il viaggio di Lancisi e Origo, inviati speciali di Papa Clemente XI Albani, insomma la famiglia degli Albani di Urbino. State ben attenti all'ignoranza sul lupo e questo è un avvertimento dell'associazione Lupus in Fabola che prende posizione sui recenti avvestamenti. rischiamo di farlo estinguere di nuovo, hanno dichiarato. Ed ora vediamo lo sport. Vediamo lo sport. Una dichiarazione per quanto riguarda la partita di ieri, persa dai giovani della Vis Under 20. Il Benelli è sfortunato, festeggia la Repubblica cieca in uno stadio con più di mille spettatori. L'Italia va sotto 38 secondi, subito insomma dopo l'inizio della partita. Poco dopo il raddoppio la squadra di Bollini cerca di rimontare ma non raggiunge il pareggio. La sconfitta è immeritata. Insomma non sono i giovani della Vis, ma è la rappresentativa dell'Italia che ha giocato con un 4-3-3, mentre la Repubblica ha vinto con un 4-2-3-1. Ci sono poi le dichiarazioni dei CT, il CT, ma che bella cornice di pubblico. Insomma almeno ci si rinfranca così dalla perdita della partita. Ricci, Bosco e Pizza magari si mettessero insieme. Il sindaco Ricci dice sono due imprenditori brillanti. Potrebbero far crescere ancora il calcio della Vis e il movimento sportivo del Fuzzal, mentre l'Alma ha rimandato ancora la scelta del mister. Lo ha rimandato alla prossima settimana. Intanto il tecnico fanese Fiscaletti prepara il derby con il Tolentino. Seconda categoria è Bartoli, il bomber dei bomber. È veramente un calciatore che fa la differenza. Per quanto riguarda il basket, vediamo una dichiarazione. Certi coach possono svoltare una stagione. Alla vigilia dell'incontro tra la VL e il Napoli, Sacripanti difende il lavoro degli allenatori. Io sto facendo i salti mortali e banchi. Vi sta già cambiando la faccia. È a difesa di Moretti, dichiara. L'ho avuto nell'Under 20. È intelligente e talentuoso. Vale la pena di aspettarlo. Ed ora aspetteremo anche noi i risultati. Questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Le notizie, come sempre, tornano su Fanno TV questa sera alle ore 20 e 30. Buona giornata. Grazie. Grazie.